Dopo un lungo periodo, come è noto, di chiusura della scuola a causa del terremoto e del meteo avverso, oggi siamo qui per il primo Open Day dell'Istituto di Popparozzi di Telamo. Sì, in effetti è un Open Day, ma non è il solito Open Day. È un momento di festa per festeggiare veramente la ripresa delle attività didattiche. È anche un'occasione, oltre che per presentare la nostra offerta formativa, a visitare i laboratori, che sono sempre molto vivaci nella nostra scuola. Ma è anche un'occasione proprio per poter visionare bene quella che è la struttura, la reazione, la vulnerabilità di questa scuola che, meno male, al sisma ha reagito molto bene. Le iscrizioni sono ancora aperte, sappiamo che c'è stata una proroga. Sì, c'è stata una proroga fino al 7 marzo ed è una cosa importante, perché le famiglie così hanno modo di riflettere ancora sulla scelta. Ma devo dire che questa sera c'è un bel movimento e qualcuno ha già fatto la propria iscrizione e la propria scelta. Quindi noi siamo qui a disposizione. Sicuramente organizzeremo un'altra giornata di Open Day, ma siamo comunque a disposizione delle famiglie tutti i giorni, sia la mattina che il pomeriggio, per poter venire qui a chiedere informazioni ed anche ad effettuare l'iscrizione.